La Tattoo Convention di Milano 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 Questa trasmissione è quello che ci mancava veramente nel panorama del tatuaggio, un'idea molto brillante, un punto di riferimento per tutti gli artisti del settore del tatuaggio, per promuovere, per informarsi e per mantenersi informate su tutte le novità del settore. Complimenti veramente, è una cosa che ci voleva. Quindi vi aspettiamo in studio? Certo, lo prontiamo. Saremo da voi.